Nell'appuntamento agonistico per eccellenza di avvicinamento ai giochi delle porte di Gualdo Tadino, il trofeo Cardinali, che ieri sera in Piazza Martiri ha celebrato la sua 19esima edizione, sono Porta San Benedetto e Porta San Donato a riportare il trofeo nel tiro di Arco e Fionda. Per l'Arco è Stefano Brunetti di Porta San Donato a salire sul podio più alto con 42 punti, seguito da Daniele Bordichini, Fabrizio Sarnari e Daniela Stolfi. Per il tiro con la Fionda, primo posto a Porta San Benedetto con Samuele Moriconi, seguito da Andrea Ciavaglia, Mirko Marinelli e Paolo Comodi. Nella categoria Under 14, San Benedetto e San Donato, si scambia nel podio primo classificato nel tiro con l'arco Leonardo Rondelli di Porta San Benedetto, mentre con la Fionda è San Donato ad imporsi con Damiano Rossi. La gara, che nel pomeriggio era stata preceduta da una fase preliminare, si era aperta con l'ingresso in piazza di un breve corteo storico di dame e cavalieri, con i priori delle quattro porte chiamati per la prima volta dopo la cerimonia del bussolo e i vespri del patrona di inizio anno a calcare la piazza in costume d'epoca a gustoso anticipo del periodo settembrino. Due le novità, Mario Pasquarelli per Porta San Facondino e Andrea Farinacci per San Martino. La serata del 17 agosto ha fatto a suo modo anche da apripista all'evento dell'estate gualdese sotto il profilo del folklore, ovvero la Notte Blu del Medioevo, che prenderà il via domani sera dalle ore 19 in piazza e lungo le vie del centro. Sarà possibile ammirare spettacoli ed esibizioni, rievocazioni storiche e scene di vita quotidiana in un percorso che si snoderà lungo le quattro taverne aperte per l'occasione. Un tuffo nel 400 di Gualdo Tadino per celebrare i 40 anni dalla nascita dei giochi delle porte.